ciao a tutti oggi prepareremo la torta soffice all'uva il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa gli ingredienti sono chicchi d'uva uova zucchero vanillina olio di semi di girasole latte sale farina di tipo doppio zero e lievito per dolci diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova lo zucchero e la vanillina citiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 5 aggiungiamo il latte l'olio e il pizzico di sale chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 aggiungiamo la farina e il lievito per dolci ci vediamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6 nel frattempo che il bimbi lavorava noi abbiamo preso una tortiera del diametro da 24 26 cm con apertura a cerniera abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e abbiamo imburrato i laterali composto è pronto adesso lo trasferiremo nella tortiera a questo punto posizioneremo i chicchi d'uva una volta completata cuociamo a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 30 40 minuti circa verificando la cottura facendo la prova con uno stecchino la torta soffice all'uva è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo torta soffice all'uva grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti